Aquisgrana. I Kruki combattono come pazzi perché è la prima volta che una loro città viene invasa dagli alleati. E non sarà l'ultima. Dopo la liberazione di Parigi pensavamo di tornare presto a casa. Ma i nostri guai erano appena iniziati. Adesso combattiamo in una città, aquisgrana. Se i Kruki ci tengono tanto c'è un buon motivo. È la chiave per sfondare il loro fronte occidentale. Davis ci fa avanzare quartiere per quartiere, casa per casa. Per snidarli tutti, dice. Tarnan e Pearson non si parlano da quando siamo arrivati qui. La fatica inizia a farsi sentire. Continua pure. Vediamo che succede. Ancora fagioli e proiettili. Se io ti dico di farlo, è quella la cazzo di missione. Ehi, datevi una mossa. Vi voglio pronti entro il tramonto. Ehi, è arrivata questa. Dalla tua ragazza. Ti avevo detto di non frugare tra le mie cose. Come si fa a non aprire una letterina così bella? Eh, soprattutto se pensi che l'abbia mollato. Vedi l'indirizzo? Ha scritto Daniels, non Red. Significa solo una cosa. Mi dispiace, secondo me ti molla. Ehi, forse è come la lettera di Schrödinger. Hai presente? Se non la apri, è ancora la tua ragazza. Ehi, forse è la lettera di Schrödinger. Basta, stronzate! Domani attacchiamo il teatro statale alle 7.30. Tutti quanti hanno un limite. Tutti quanti. Vero o no, Esa? Poter credere che Mia Mia ancora mi darà la forza. Dai, andiamo! Andiamo, Daniels! Preso! Giù la testa! Perda, noi li ammazziamo e quelli continuano ad arrivare. Presto ci strapperanno la piazza! La figlieria è in arrivo. Dicono 10 minuti al massimo. Non li abbiamo, Tenente Turner! Ci servono subito dei carri! I carri ci caprono il piazzo! Stanno fattiti e fatemi pensare, cazzo! Non c'è tempo per pensare! Ehi, Daniels! Due Aiello con Pearson a chiedere supporto. Forza! Ok, andiamo! Occo di copertura! Daniels, ho il telefono da campo! Odo! A secco! In carico! Daniels! Il telefono! Falco, sergente! Dagwood White 2-7 a V-Lane! Siamo sotto attacco! Serve supporto immediato sulla linea 2! Passo! Ricevuto! Ma così lasceremo il fianco esposto! Movete il culo e venite qui il prima possibile! Agli ordini! Arriviamo! Passo! E fate presto! Quei pack ci fanno a pezzi! Passo e chiudo! Ok, ragazzi! Ci spostiamo allo Stadttheater! Il primo plotone in i guai! Posizioni nemiche sconosciute! Passare a radio e interfono! Radio accesa! Repson! Noi andiamo a destra verso il teatro! A destra! Ricevuto Perez! Abrams! Paul! Restate qui con il secondo plotone e difendete il fianco fino al nostro ritorno! Ricevuto! Affermativo Perez! Massima attenzione e occhio ai nemici alle finestre! Ok, Repson! Andiamo! Ehi! Vedo movimenti! Lato destro! I nostri al teatro sono nella stessa nostra situazione! Appena spaziamo via i tedeschi ne scontano fuori altri! Siamo nel loro territorio! È tutta un'altra storia! Se vogliono un massacro è quello che avranno! Non hanno speranze contro di noi! Loro sono convinti del contrario! Squadra Panzersheck! Ricarico! Pronto a far fuoco! Panteria tedesca! Armi leggere! Stanno attaccando i nostri! Ricarico! Fuoco a far fuoco! Panzersheck! Vai per i nostri! Ricarico! Ricarico! Quattro pancero, a sinistra. Quattro pancero, a sinistra. Stanno attaccando il primo Plutone. Siamo quasi arrivati. Vai avanti. Remson, rallenta. Non ti vedo. Cattedrale in vista. Siamo quasi arrivati. Panzer! A destra! A destra! Remson! Incentio! Ai portelloni! Merda! No! No! Merda! Fuori! Fuori! Peres! Il Panzer è ingattacchabile prontamente! Accettiamolo! Ricevuto! Faccio il giro! Siamo a un bersaglio troppo facile! Ci sta puntando! Bel corpo! Fianco, orbito in pieno! Pronto a far fuoco! Ricarico! Ho beccato il bastardo! Remson, rispondi! Remson, mi ricevi! Merda! Remson! Perdormi! A giusto un po'! Saliamo la collina! Carro! Carro! No! No! È un bugger! Attiriamolo! Dobbiamo colpirlo ai fianchi! C'è un altro Panzer anche qui! Un Panzer ci colpisce da destra! Un carro tedesco ci attacca da dietro! Tenetevi fuori portata! Dove sono? Non li vedo più! Non vedo più il nemico! Dove si è cacciato? Bel colpo! Nessun danno! Veicolo a sinistra! Ci sono il pistolo da un piatto sinistro! Pianco a sinistro! Tenetevi fuori portata! Colpo perfetto! Attacco frontale inefficace! Mezzi nemici a sinistra! Gran colpo! Gran colpo! Distrutto! Il Panzer è ancora qui in giro! Dobbiamo distruggere quell'ultimo carro! Siamo colpiti! Ci sta puntando! Colpo neutralizzato! Ci danneggiano! Ci tengono sottotiro! Fianco colpito in pieno! Dov'è finito il nemico? Dobbiamo trovarlo! Ricarico! Mezzo distrutto! Risaliamo all'altura da dove è arrivato il Tiger! Il teatro deve essere oltre la salita! Doug Woodwhite 27 a Villain! Non resisteremo ancora molto! Villain a Doug Woodwhite 27! Repsol a terra! Siamo rimasti solo noi! Stiamo arrivando! Forza! I nostri ci aspettano! Andiamo lassù! Faccio qualche riparazione! Il teatro è appena dietro l'angolo! Distruggete quei pacchi che colpiscono il teatro! Ecco il teatro! La squadra di Turner è nella meta! Penso al corazzato tedesco! Distruggiamo subito quel Panzer! Li danneggiano! Li perdono! Carro nemico distrutto! Così non resisteremo a lungo! Veicoli nemici in arrivo! Distruggeteli! Batterie Panzerschreck! Appartamenti davanti! Stanno scappando! Addosso! Manca poco! Dobbiamo eliminarli tutti! Lanciatori Panzerschreck! Davanti! Ricarico! Qualcuno vede altri bersagli! Negativo! Credo che qui abbiamo finito! Tutti sistemati! Villen a Dagwood White 2-7! Piazza libera! Ripeto! Piazza libera! Grazie per l'aiuto, signora! Dagwood White, chiudo! Peres resterà in posizione al teatro per coprirci il fianco! Noi dobbiamo avanzare verso l'hotel Allendorf senza supporto corazzato! Andiamo! Bene, facciamolo! Palbergo in mano ai nazisti da settimane! Preso quello, anche la città sarà nostra! Con qualche carro armato sarebbe tutto più semplice! Peres deve difendere la posizione! Potremmo farcela da soli, soldato! Attenti in alto! Occhio alle finestre! Attenti a quei negozi! Non mi piace, troppo tranquillo! Stiamo allerta! Calma, state al riparo! Mitragliatrice, via! Avanziamo e troviamo un barco! Daggett è stato colpito! Aiuto! Hai con sua perma, dentro! Deo, miei! Nemico individuato! Non ti lascio qui! Portami via da qui! Tieni duro! Poverci! Imboscata, al riparo! Butto una granata! Smotto! Via libera! Prendi delle munizioni, Daniels! Di sicuro non possiamo tornare in strada! Questo muro sembra debole! Daniels, colpiscilo con il lanciatore! Qui indietro! Vedo movimenti! Truppe nemiche! Fuoco! Dove sei! No! Arrivano dalle 8! Sì, siamo. L'ultimo baluardo tedesco. Ok, vieni, bro. Occhi aperti. Daniels, diamo un'occhiata. Signor, sì. Sembra tutto tranquillo. E la cosa non mi piace. Daniels, cosa vedi? I cieli sono sgombri. I nostri hanno finito di bombardare. Ti godi il panorama, soldato? Cosa stai guardando? Contatto visivo con l'albergo. Non vedo truppe sul balcone. Né altrove, se per questo. Devono essere dentro a rinforzare le difese. Vogliono giocarsi il tutto per tutto. Allora riusciremo ad avvicinarci senza troppi problemi. Appena attaccato l'albergo, dovremo prepararci al peggio. Primo occupiamo l'appartamento. Forse i cruchi sono là dentro. Dopo averlo ripulito, avanziamo verso l'albergo. Informazione! Daniels, Jusman, davanti! Andiamo! Occhio aperti! In quegli appartamenti potremmo trovare parecchie... Munizioni per te, soldato! Mi servono munizioni! Occhio, Daniels! Via libera! Avanzare! Occhi aperti! Daniels, serve di nuovo il lanciatore! Occhio all'esplosione! Kik medico! Non vedo niente! Ecco i tedeschi! Passamoli fuori! Non si passa! Dobbiamo eliminare i cruchi! Non li vedo! State giù! Il fumo si tirata! Pronti a sparare! Ne arrivano altri! Giù! Te ne sono altri! A riparo! GVG arriva dalla testa! Sì, sono stati nuovi! Granate e fumocini, Daniels! Sì! 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 Siamo tutti al posto! Via libera! Raduniamoci qui! Rogers, va avanti e controlla la prossima stanza! Signor C! Porta bloccata! Dobbiamo infilarci dentro uno alla volta! Sembra molto stretto! Non so se ce la faccio! Ti dicevo di metterti a dieta! Ah, molto simpatico! Merda, merda! Aiutatemi! La loro... Prezza in movimento! Tutto a posto? Grazie! Ora sto bene! I trucchi sono dappertutto! Si muovono da nord ovest! Provo con una granata! Sì! Giori! Sì! Achtung della granata! Sì! 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 a Tira una granata a fumagina! Cacciapatate, via! Prendi delle munizioni, Daniels! Ok, tutto a posto? A posto! L'albergo è là, teniamo un basso profilo! Ok, andiamo! Giù per le scale! Daniels, ho un kit medico! Mi servono munizioni! Tieni, Daniels! Mi serve un kit! Subito! Quel camion ci blocca la strada! Spostiamolo! Maiello, molla il freno e sterza! Tutti gli altri a spingere, va bene! Daniels, devi aiutarci! Porca puttana! Le gomme in buono stato! Arburante! La batteria funziona! Puoi darci un passaggio! Tenete, forse riesco a metterle in un'altra! Non prende mai dentro! Da, C-College! Ok, andiamo! Ho granate fumogeni se servono! Pronti, ragazzi! Daniels, un altro muro! Abbattilo! Facciamo piazza pulita, ok? State lontani! Pronti! Pronti, muoversi! Dobbiamo occupare l'atrio! Siu spanna a destra! Aiello, a sinistra con me! Stiles! Al secondo piano con Virgo! Recevuto! Robita! Ti vedo alla scala principale! Stotto! Mitragliatrici sulle scale! Provate a circonderli! Siamo dappertutto! Trovo con una granata! Attenzione, l'emica avvistata! Al corridoio sul retro, Daniels! Gli amici in arrivo! Stanno uscendo! Beccoli! Granata! Va avanti, Daniels! Dobbiamo controllare l'area dietro alla scala principale! Tutto bene? Sto bene! Atrio libero! Spero che siano tutti! Tutti con tanner! Il secondo plotone ha i piani alti! A noi tocca lo scantinato! Con me! Ranghi serrati! Ehi, Stiles! Ho trovato una! Fa il culo! Daniels, la porta! Luci! Sembra una bambina! Qualcuno ha del cioccolato? Signor, sì! Avrai fame! Dai! Prendi! Nonna! Wow, 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 wow! Tranquille! Tranquille! Niente paura! Niente paura! No mangiare! Mia sorella! Aiuto! Per favore! No, no! I rinforzi nemici saranno qui a momenti! Non possiamo fare da balia a dei civili! Sono soltanto in due! Signore! Venga qui a vedere! Ah, davvero grandioso! Merda! Quel camion che abbiamo trovato prima! Lo portiamo qui e facciamo evacuare! Con tutto il rispetto! La nostra priorità è l'albergo! Non parlo tedesco! Parli tedesco! Quando cazzo pensavi di dircelo? Mai! Porteremo in salvo questa gente! Daniels! Aiello! Tornate a prendere quel camion! Ci vediamo al lato ovest dell'albergo! Muoversi! Chissà cos'altro ci tieni nascosto, Herr Zussmann! Non si preoccupi, sergente! Ah, invece mi preoccupo, soldato! E come? Adesso tocca noi due, Daniels! Zussmann poteva dirlo che sa parlare tedesco! Viene da una famiglia di ebrei tedeschi! Non vuole che si sappia delle sue origini! Tutti abbiamo qualcosa di cui non siamo fieri! Perché dobbiamo sbarcarci così per quei crocchi? C'era una bambina! E degli anziani! Non possiamo salvare noi! Sono civili! Li porteremo in salvo! È il nostro dovere! Sì, sì! Ecco il camion! Andiamo! Ok, dammi un attimo per accendere questo affare! Bene, ti copro le spalle! Movimenti in quegli edifici dall'altra parte! Buzzer shank! Mettilo in moto! Non ho mai guidato un camion tedesco! Mettilo in moto! Non possiamo stare qui, fregati! Ancora finito! Dobbiamo distruggere quei senti cingolati! Aiello, datti una mossa! Uso una granata! Non ne arrivano più! Forse si stanno ritirando! Ok, è in moto! Sali! Daniels, sali sul camion! L'hai messo in moto! Grazie mille per l'aiuto! Credo che si stiano raggruppando al lato nord! Dobbiamo avvertire la squadra! Dobbiamo portare al sicuro questa gente! O difenderci qui! Troppo rischioso! Meglio non esporli al fuoco incrociato! Ormai è tardi! Fa presto! Ha ragione Pearson! Non abbiamo il tempo di occuparci di questa gente! Sono civili, dobbiamo aiutarli! Avanti e fermati sulla strada! Sì, sergente! Bene! Porta fuori i civili! Forza! Andiamo! Forza! Signore, dobbiamo andare! Arrivano rinforzi! Anna! Ehi, dove stai andando? Cosa ha detto? Sua sorella è tornata nello scantinato! Allora ci resterà! Dobbiamo portare via questa gente! Andiamo! Tenente! Vado io! Te lo puoi scordare! Hai due minuti! Vengo anch'io! No! Solo Daniels! È troppo pericoloso! Mi serve qui a proteggere il perimetro! Signor sì! Devi fare in fretta! Ricevuto! Merda! Ci sali! Oh mio! Eh! Sì! Eh! Soll' a Oh! 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 Oh Oh, cazzo. Devo trovare Anna. Ah, deve essere qui da qualche parte. Ehi, piccola. Andiamo. Ti riporto da tua sorella. Vieni. Ssh, va tutto bene. Ti porteremo via da qui. Cazzo. Nein. Steve,察 �, excel. S YaC is in line. Cazzo. va tutto bene non Siamo arrivati. Siamo arrivati. Casper... Sei bravissima. Siamo quasi arrivati. Devi farti coraggio ancora per un po'. Ci sono io. Si può sapere da dove sbucano. Di qua sparano. Troppo rischioso. Dobbiamo andare avanti. Tranquillo. Siamo quasi fuori. Siamo quasi fuori. Si sistemerà tutto. Ma c'è solo un piferezzo. Merdo! Uno dei nostri! Andrà tutto bene. Portala al camion. Vi copriamo noi. Sì, diamo una bella prima. Daniels, vieni subito qui. Abbiamo preso l'atrio. Anna! Grazie. Ok, ora possono arrangiarsi. Andiamo. Vi porteremo in salvo. Questo è quanto. Pearson ha ragione. Se ci riportiamo dietro, i cruchi ci attaccheranno. È troppo rischioso. Protoziusman, liberiamo questa strada. E li portiamo al sicuro. Chiaro, signore. Però forse sarebbero più al sicuro da soli. E se i tedeschi si riprendono l'albergo? Ogni squadra che passerà di qua sarà in pericolo. Non siamo a Kasserin. Siamo in vantaggio. Voglio tutti sul camion. Agli ordini. Posizioni difensive! Liberiamo la strada! Si difende dalla posizione! Fuoco, fuoco! 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 Fuoco 3.000! Giardino al sicuro! Fuoco! Fuoco libera! Fuoco tutti! Nessuna perdita! Daniel, se vedi se c'è qualcuno che può guidare il camion! Kann jemand ein lost fahren? Vi ha einen bräuche neunengut. No! Ich kann fahren. Herr, komm! Attenzione! hanno colpito il camion è morta andiamo via che cazzo fai esegua gli ordini ripiegare all'albergo via 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 ehi non c'è più niente da fare abbiamo preso acquisgrana e aperto un corridoio verso il reno turner e pearson sono sempre più distanti ma spero capiscano che la guerra viene prima di tutto e 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 Grazie a tutti.